Ma guarda un po' chi si rivede, guarda un po' che si rivede Ragazzi oggi siamo... non so come ho chiamato questo video Increase the movement and jump by... ok, ok Eh, ma salto un botto di più Allora praticamente ragazzi questa... non ho idea di come ho chiamato il video, ok? Però dovrebbe essere una cosa del tipo la ruota della fortuna, modalità zombie, non lo so, una cosa di sto tipo, no? Che appunto... buono, 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 buono Allora come funziona? Praticamente questa mod, ok, come potete vedere in alto a destra Ok, era l'ultimo, va bene Funziona in questo modo, ecco ora il nul kick come primo perk Ti direi di sì, ma ti dico che stavo bene anche senza, sinceramente, eh Vabbè, non importa, non importa Allora Nukes detonate Ok Va buono bro, va buono È vero, io qua non ci fado senza la corrente Sono fortissimo Giusto? Ieri stavo a fare il round 100, ragazzi, vede, vero? Allora, ogni round che passa, io come potete vedere in alto a destra, avrò o un bonus o un malus Io ho fatto una partita di prova Tu come ci sei arrivato? Ok, va bene, regà, va bene, va bene È stato uno di quei round brevi ma intensi E quindi appunto io ogni giro Ok, shopping sfrenato, direi che ci leviamo subito dalle scatole Ti prego, dammi un perk migliore Il jug, ottimo, bro, ottimo Vediamo un po' cosa succede Ma è... buono È... gg, regà, gg Letteralmente gg Le... mi stai... allora, beh, cosa? Le granate applicano cavo inerte? Ok Ok, il fatto che gli zombie sto girando il doppio della vita Diciamo che non mi aiuta Comunque, ragazzi, altra cosa che non vi ho detto Di questo video È che mi sono posto anche un'altra mini challenge Giusto per... perché mi odio un pochino tanto Ovvero, cosa voglio fare? Come avete visto, ho... Raising Drop, ora non mi ricordo se si chiama in italiano Sì, quanti colpi servono a un zombie per morire? Vabbè, insomma, quello E... cosa intendo fare? Praticamente... Io posso ottenere perk solo da quello Ok, da quello Dal bonus che appunto droppa Oppure, io so che c'è anche il bonus Del... per un round puoi comprare perk in maniera illimitata Ecco, se mi esce quel bonus Io durante quel round mi posso permettere un perk a mia scelta Altrimenti è... nulla Ciao, non lo prendo, mi attacco alla cavolo Mi ha... mi ha regalato Double tap? Va buono Va buono Perché l'ha disperto di giocatore Ti ringrazio, ti ringrazio Questo non lo sapevo che c'era, ad esempio Ok, auto-reanimazione Mi dispiacerebbe un po' perderlo Però ragazzi, è qua Instant key round? Buono Buono Allora, è il momento di far rendere utili le armi più inutili di questo gioco Non li ha uccisi tutti comunque Madonna rega, quanto possono far schifo Allora, scordiamoci Tutti i perk esplodenti Allora Secondo l'attuale bonus Ok Dammi il perk magari Stamina, ti ringrazio Ringrazio davvero Allora, secondo l'attuale malus Stavolta è uscito un malus Tutte le casse Mi daranno gli orsacchiotti Quindi Vediamo se è vero anche quei saldi Io in teoria dovrebbe andare ad annullare Infatti Allora Vediamo un po' Bomba Speedcola Rega, ci va di lusso Ci va di lusso Solo che appunto se non Non mi dai il jug Io ora inizio a temere un po' per la mia vita Eh sì, il jug Scusate, nel quick Magari sbaglio Ma da quando ci sta L'RPK Su sta mappa? No raga Sta partendo adesso Allora Se ci riesco Se ci riesco Se ci riesco Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No Oddio Oddio che culo Che culo Tira scimmie Ok Pezzo del Ragnarok Ragazzi Ma do l'ansia L'ansia Lucky Ok Eh sì C'è il Panzer Fantastico Ciao bro Ciao bro Ciao bro Allora bro 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 Perché non li si rompe la cosa? Perché non li si rompe la cosa? Ok Mi stava esplodendo il computer In quel piccolo frame Bro 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 Regan fai i danni Ok Uh Electric Cherry Grande bro Così ti voglio Così ti voglio Carico Capita? Carica Electric Cherry Lo so Faccio pena Ma allora Bro Speedy slow Allora A parte Non posso fare il coso La slide Infinita No ti prego Infatti Sto provando a saltare Non mi fa saltare Allora La velocità Bene o male Mi sembra quella Però non poter slide Dare regano No Che brutto Va bene Va bene Allora Vediamo se Riusciamo a fare È vero Che non No No Non sto il perk Ok Luido Però il quick Non me lo vuol dare Neanche per sbaglio Ah Vabbè No Un round Intanto Perk Oh il quick A parte mi sa che era l'unico perk Che poteva darmi Arrivato a questo punto Il locket Non l'ho visto Ah vabbè Vabbè GG GG Tanto Macchina mortale A me basta far fuori Il ragazzo simpatico Guarda Non ho capito bro Però Ok Va bene Va bene Va bene Allora io direi Che l'obiettivo Che è buono Round 19 È riuscire a farsi Un round 30 Che è abbastanza Tranquilli Senza andare a terra Ok Quindi per dire Il quick ce l'ho L'animazione ce l'ho Ma alla fine è per il meme Dal momento che vado a terra Direi sfida persa Saldi per tutto il round Va buono Va buono Va buono Magari ci sta qualche arma No Più che altro Perché io vi ripeto Magari sono incoglionito io Ma questo In questa mappa Non me lo ricordavo assolutamente Smettere di darmi Cecchino mitraglioni Stiamo scherzando Vero Stiamo scherzando Vero Tra l'altro ragazzi Che se lo ricordo Che si poteva fare questo Madonna È bello Pagapanciare Davanti al pagapanci Ragazzi Niente granate Wow Che sacrificio Incredibile Panzerotto Dove sei Ciao Carissimo T'ha posto T'ha posto Perché non muore Perché non muore Perché non No 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 Attivala 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 Raga Perché non muore Tu come ci sei arrivato Qui Statti calmo Raga Perché questo Panzer Allora Siamo solo a round 23 Com'è che la Regan Non fa più niente Ah ok Cioè Cioè mi sono detto Ok dai Tengo la Regan Così sto tranquillo Sto round Sì Sì Tranquillissimo Veramente Tranquillissimo Ma Regà Mi ha rubato la metà dei soldi Ma non vale Vaffanmoc Ma Regà Mi ha dato il Deadshot È vero C'era ancora il Deadshot Totalmente rimosso Dalla mia mente Vi giuro Altro perk Che ho dimenticato Mi sa di no Ok Da questo round Niente Wonder Weapon Ma fra Guardate lì Questa mappa Non mi hai tolto Praticamente nulla Allora Io adesso ragazzi C'ho i flashback Del Vietnam Di questo coso Ok Perché io su PC Non ho mai avuto problemi Però non vorrei Che poi finisce come Su console Che mi crasha anche mia madre Però Diamogli il beneficio Del dubbio Va bene bro Va bene Non è un problema Terminiamo anche in bellezza Con il Panzerot Appena vuole arrivare Il ragazzo Ok Ciao bro Ciao bro Ciao bro Ciao bro Ciao bro Ciao bro Aiuto 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 È vero Non posso prenderlo Ok 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 Con calma bro Con calma Nulla Devo usare la mica Tutto il round E pazienza Round 30 Ebbene Ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati alla fine Della challenge Zero kill Devo dire che È una mod Molto divertente Ve la consiglio Soprattutto Da giocare in gruppo Da giocare in gruppo Eh bella Siamo immortali A posto Giocare in gruppo Sicuramente È molto più Funni Come al solito Vi ripeto Io sono solo Come un cane Quindi sed E Come al solito Ragazzi Da provare Di Soprattutto Grazie.